Partenza, incoraggiante, finale da dimenticare. Troppo forte la corazzata Corigliano vicecapolista del giorno B per una volenterosa Salinis. Al palaspor di Andrea si impone il quintetto calabresse con un 9-0 finale che non ammette repliche. La formazione di Margherita di Savoia crea tanto in avveni partita, ma non incide in fase di finalizzazione. Scivola così a meno 4 dal quinto posto, l'ultimo utile per accedere ai playoff, ma la salvezza diretta nel campionato di A2 resta molto vicina. Eccellente l'approccio mentale dei rossa-nero di Domenico lo dispoto che nei primi 5 minuti collezionano palle e gol in successione. Ci prova inizialmente Colangelo, sappia c'è, poi tocca a Caetano esaltare le qualità dell'estremo difensore del Corigliano che poco dopo si oppone in maniera efficace anche a Pizzo. Cinica e spietata invece si rivela la formazione allenata da David Ceppi che sugli sviluppi di un corner trova con Urio il primo acuto della contesa. La Salines fatica ad assorbire il colpo, i calabresi ne approfittano così per piazzare l'allungo decisivo già prima del riposo. Questo contatto in aria su Siviero viene giudicato da rigore. Vieira non fallisce l'esecuzione dal dischetto e raddoppia per i suoi. Lo stesso Vieira si concede il bis a livello personale poco dopo e prima dell'intervallo Dentini su Assis di Marcellinio realizza il poker per il Corigliano. Gara virtualmente chiusa con largo anticipo. Ti aspetti la reazione dei padroni di casa nel corso della ripresa ed invece il festival del gol coinvolge soltanto gli ospiti anche per merito di sapia il numero uno dei calabresi che si oppone in apertura di ripresa a pedone. Caetano si becca il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica con l'uomo in più. Vieira realizza la cinquina. Il palo poco dopo nega la gioia del gol a Siviero poi sul capovolgimento di fronte. Pizzo conclude a lato da buona posizione. Altro cartellino rosso per la Salinis espulso di Staso ma questa volta non c'è spazio per la superiorità numerica degli ospiti perché Vieira non sbaglia ancora una volta dal dischetto. Poker personale per lui 6-0 Corigliano. Sapia il migliore in assoluto. Diventa ancora più protagonista quando da porta a porta realizza il gol del 7-0. La Salinis esaurisce il bonus falli e regala quattro tiri liberi ai calabresi. I primi due li calcia a Marcellinio che prima si fa ipnotizzare da Gorgoglione poi realizza la rette dell'8-0. Il 9-0 è opera invece di Capitan Schiavelli mentre Bacega sempre su tiro libero. Fallisce il gol della doppia cifra. Finisce così al Palaspor di Andria con pochi sorrisi ed uno score conclusivo decisamente ingeneroso per la Salinis.